E' giunta l'olora, padre per me, ai miei amici, oh benissimo, amici e ascoltatori ben trovati, il saluto dalla casa circondariale di Velletri, vi arriva da Luca Collodi e Davide Dionisi, buonasera Davide. Buonasera, buonasera ai nostri radioascoltatori. Stiamo per proseguire la messa in cena Domini che Papa Francesco, lo sentite dagli applausi, sta per celebrare all'interno della struttura circondariale di Velletri. Ricordiamo che oggi è il giovedì santo e oggi si conclude il periodo quaresimale, iniziato con il mercoledì delle Ceneri. Con questa messa, la messa vespertina del cena Domini, inizia il triduo pasquale, i tre giorni nei quali si commemora la passione, la morte e la risurrezione pasquale di Gesù. Con Davide Dionisi, brevemente in attesa di partecipare poi alla celebrazione eucaristica e alla lavanda dei piedi che caratterizza, tra l'altro, la messa in cena Domini, qualche notizia sulla struttura carceraria che il Papa ha visitato. Sì Luca, rivivrà come hai già detto tu nel questo istituto di Velletri, Papa Francesco, il gesto di Gesù di lavare i piedi ai suoi discepoli, in segno proprio di servizio verso i fratelli e di amore solidale. E ancora una volta in un carcere, quella di oggi è la quinta volta. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che hai lavato i piedi ai discepoli, per chi avessero parte con te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei il pane della vita discesso dal cielo, perché viviamo in eterno, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che nel tuo sangue ti sei fatto garante della nuova ed eterna alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbi a misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace interna agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria e in mezza. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Anneto di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accorgi la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amén. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il Tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo eterno sacrificio, convitto nuziale del Suo amore. fa che dalla partecipazione al così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amén. È il momento ora della liturgia della parola. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, il Signore disse a Mosè, ad Aronne, in terra d'Egitto, «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite «Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quando ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete scegliere tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'Assemblea della Comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipidi e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi scinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e coprirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flaggello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi tutti un memoriale. Lo celebrerete come la festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Salmo responsoriale Ripetiamo Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga». Parola di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. «Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni e gli altri». Parola di Dio. «È il momento della proclamazione del Vangelo. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni». «Gloria a Dio, Signore». «Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuta, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro «Tu non mi laverai i piedi in eterno?» Gli rispose Gesù «Se non ti laverò, non avrai parte con me» Gli disse Simon Pietro «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo» Soggiunse Gesù «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro e voi siete puri, ma non tutti» Sapeva infatti chi lo tradiva Per questo disse «Non tutti siete puri» Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro «Capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri Vi ho dati infatti un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» Parola del Signore Parola del Signore E tra poco ascolteremo le parole di Papa Francesco nell'Omelia che sarà pronunciata Abbraccio Vi saluto a tutti e ringrazio l'accoglienza «Ho ricevuto una bella lettera con i giorni fa da un gruppo di voi che non ci sarà oggi qui» «Hanno detto cose tanto belle» «Questa lettera ringrazio per quello che hanno scritto» «E in questa preghiera sono molto unito a tutti» «A coloro che stanno qui e a quelli che non stanno» Abbiamo sentito cosa ha fatto Gesù «È interessante» «Dice il Vangelo» «Sapendo Gesù che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani» «Ossia Gesù aveva tutto il potere» «Tutto» E poi incomincia a fare questo gesto di lavare i piedi E' un gesto che facevano gli schiavi In quel tempo perché non c'era l'asfalto nelle strade E la gente quando arrivava aveva il polvere nei piedi Quando arrivava una casa, una visita o per pranzo C'erano le schiavi che lavavano i piedi E Gesù fa questo gesto Lavare i piedi Fa un gesto di schiavo Lui che aveva tutto il potere Lui che era il Signore Fa il gesto di schiavo E poi consiglia a tutti Fate voi questo gesto fra voi Cioè servite l'uno all'altro Siete fratelli nel servizio Non nell'ambizione di chi domina all'altro O chi calpesta l'altro Servizio Tu hai bisogno di qualcosa Un servizio Io te lo faccio Questa è la fratellanza La fratellanza è umile sempre E al servizio E io farò questo gesto La Chiesa vuole che il Vescovo Lo faccia tutti gli anni Una volta all'anno almeno Per giovedì santo Per imitare il gesto di Gesù E anche per fare bene Con l'esempio E anche a Lui stesso Perché il Vescovo Non è il più importante Il Vescovo deve essere Il più servitore E ognuno di noi Deve essere servitore degli altri Questa è la regola di Gesù E la regola del Vangelo La regola del servizio Del dominare Di fare del male Di umiliare gli altri Servizio Una volta quando gli apostoli Litigavano fra loro Discutevano Chi è il più importante di noi Gesù Presse un bambino E ha detto Il bambino Se il vostro cuore Non è un cuore di bambino Non sarete i miei discepoli Cuore di bambino Semplice Umile Ma servitore E lì aggiunge Una cosa interessante Che possiamo collegare Con questo gesto di oggi Dice State attenti I capi delle nazioni Dominano Dominano Fra voi Non deve essere così Il più grande Deve servire al più piccolo Il che si sente più grande Deve essere servitori Anche tutti noi Dobbiamo essere servitori E' vero che nella vita Ci sono dei problemi Litighiamo fra noi Ma Questo deve essere Una cosa Che passa Una cosa passaggiera Perché nel cuore nostro Deve essere Sempre Questo amore Di servire All'altro Di essere al servizio Dell'altro Che questo gesto Che oggi farò Sia per tutti noi Un gesto Che ci aiuti A essere più servitori L'uno dell'altro Più amici Più fratelli Più fratelli Nel servizio Con questi sentimenti Continuiamo la celebrazione Con la lavanda dei piedi E per quanti Solo ora Si fossero messi In collegamento Con Radio Vatican Italia E le emittenti Collegate Con Vatican News Vi ricordo Che siete In diretta Con la casa circondariale Di Velletri Siamo in provincia Di Roma Dove il Papa Sta celebrando Lo avete sentito La messa in cena Domini Con me Luca Collodi In postazione Davide Dionisi Collega Che si occupa Da tempo Del mondo delle carceri In questo momento Tra poco Davide Dionisi Il Papa Laverà i piedi A 12 detenuti Lo aveva già fatto Nel 2013 Nel carcere minorile Di Casal del Marmo Nel 2015 A Re Bibbia E nel 2017 Nel carcere di massima sicurezza A Paliano In provincia di Frosinone Lo scorso anno A Regina Celi Quindi Quella di Velletri È la quinta volta Che il Papa Lava i piedi Agli ospiti Di una casa Di reclusione Quella di Velletri È una struttura Che ospita Attualmente 577 persone 50 delle quali Nella reclusione È un istituto Considerato Di media sicurezza Con due sezioni Precauzionali Una Di Ex collaboratori Di giustizia E una anche Di salute mentale Ricordiamo anche Ai nostri Radioascoltatori Che il 60% Della popolazione Carceraria È Straniera Abbiamo sentito Anche le parole Del Papa Luca La lavanda Quello del lavare I piedi È un gesto Da schiavi È un gesto Da schiavi E Gesù Fa questo gesto Da schiavo Lui che aveva Tutto il potere Si china Ai piedi Degli ultimi In questo caso Che proprio In questo momento Sta facendo Papa Francesco Volevo solo Inserirmi Nella tua riflessione Davide Dionisi Perché Come detto Il Papa Chiaramente Lava i piedi A 12 detenuti Provenienti Da 4 paesi Ecco Questa era la notizia Che volevo aggiungere La maggioranza È italiana E poi ci sono Ospiti del carcere Di Velletri Che arrivano dal Brasile Dalla costa d'Avorio E dal Marocco E appunto Come hai sottolineato La maggior parte Proprio In rappresentanza Di questo rito Ci sono Stranieri Il Papa Ha più volte Ripetuto Durante L'Omelia La parola Servizio Servizio Uguale Fratellanza Come gesto Di umiltà E ripetendolo Anche per certi versi A se stesso Il Vescovo Deve essere Il più servitore Questa La regola Della Vangelo E il gesto Di oggi Quello che sta Compiendo adesso È un gesto Da servitore Chinandosi Proprio ai piedi Degli ospiti Della casa circondariale Di Velledri Ed ecco che Papa Francesco Sta continuando Il rito In questa messa In cena Domini Della Lavanda dei piedi Che Dobbiamo ricordarla Davide Dionisi È anche una caratteristica Dell'ospitalità Nel mondo antico Era un dovere Dello schiavo Verso il padrone Della moglie Verso il marito Del figlio Verso il padre Ma in questo caso Lo spirito È proprio quello Di cambiare Le gerarchie È il potente Che in questo caso Aiuta Il più debole È il gesto Dello schiavo Che però Rende Lo schiavo Libero Esattamente E lo abbiamo visto Troviamo conferma In quello che dici Anche Per quanto riguarda L'animazione liturgica Perché le letture Sono state pronunciate Dalla direttrice Della casa circondariale La dottoressa Maria Donata Iannantuono E anche Dal comandante Della comandante Degli agenti Di polizia penitenziaria Quindi L'animazione Ha visto protagonisti Non solo Gli ospiti Della casa di reclusione Ma anche Le principali cariche Che gestiscono Questa struttura Che lo ricordiamo Una struttura Un po' isolata Tutto sommato Proprio periferica Rispetto al centro Di quello che è considerato La prima cittadina Dei castelli romani E... E... Sangria giustio Gud Gli ospiti E... Giustinio Dominare Ogre Erick Io vado a voi, nessuno ha un amore e un grande di chi dà la vita degli amici. Vogliamo ricordare Luca in apertura che il Papa ha menzionato, ha ricordato la lettera che alcuni di loro avevano inviato a lui stesso. Il Papa è firmato, siglato da un gruppo di ospiti che non prenderà parte alla cerimonia perché comunque abbiamo detto che sono circa 600. Il Salone Teatro che sta ospitando la cerimonia di oggi può contenere al massimo 250 persone. E lui ha voluto ricordare proprio gli assenti in segno di vicinanza spirituale anche con loro. Io ho chiamato miei amici, rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. Questo è il mio comandamento che è il mio amore. E torniamo a ricordare anche il senso del Triduo Pasquale perché con il Giovedì Santo si conclude, come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, la Quaresima è iniziata con il Mercoledì delle Ceneri. Con questa messa che stiamo seguendo in diretta dal carcere di Velletri, la messa in cena domini, inizia il Triduo Pasquale. La tre giorni, una tre giorni nei quali si ricorda la passione di nostro Signore, la sua morte e la risurrezione di Gesù nel giorno pasquale. E dobbiamo anche ricordare, Davide, che dal punto di vista liturgico quella del Triduo in sostanza è un'unica grande celebrazione che praticamente copre ben tre giorni. Nella messa in cena domini, lo vedremo alla fine, non ci sarà il congedo ma l'assemblea andrà via in silenzio, l'assemblea si scioglierà in silenzio. Nel venerdì santo, cioè nella giornata di domani, la celebrazione e le celebrazioni inizieranno nel silenzio, quasi come una continuità con la messa di questo pomeriggio. Non ci saranno rite di introduzione e le celebrazioni termineranno senza benedizione nel silenzio, fino ad arrivare al sabato sera, al sabato notte con la veglia pasquale che inizierà senza il segno della croce e senza il saluto all'assemblea. Solo alla fine della veglia pasquale ci sarà la benedizione finale, il congedo e la risurrezione, la festa della risurrezione. Quindi iniziamo questo percorso che ci porterà sabato notte alla messa della veglia pasquale. È un tipo di preparazione, Luca, abbastanza forte quella vissuta qui a Velletri, anche dalle parole espresse ai nostri microfoni nei giorni scorsi dal vescovo di Velletri Segni, Monsignor Apicella, che ha più volte ribatito che la preparazione è stata un tipo di preparazione speciale proprio per rendere più accogliente possibile un ambiente che abitualmente non lo è. La stessa cosa ha detto anche il cappellano del carcere, Don Franco Diamante, che ha detto che questo sarebbe stato sì un momento più forte, riturgico dell'anno, ma per loro una grande festa. E ognuno si è adoperato proprio per abbellire il suo spazio, per cercare di rendere un luogo molto molto freddo. Lo abbiamo visitato, lo abbiamo raccontato anche attraverso i microfoni di Radio Vaticano Italia, il più accogliente possibile. E torneremo a sentire anche un reportage che tu hai fatto per la trasmissione I Cellanti, che ricordiamo ogni sabato sera alle 19.12 e la domenica alle 16.30 ci porta proprio a raccontare le storie dall'interno del carcere. E avremo modo di ascoltare anche gli ospiti del carcere di Velletri, proprio alla vigilia di Pasqua, sabato prossimo. C'è anche un saluto, vorrei aggiungere, visto che hai citato la nostra programmazione, degli ospiti della Casa di Ricoluzione di Re Bibbia, che hanno inviato, lo manderemo in onda nei prossimi giorni, un augurio speciale a Papa Francesco. Un saluto anche, è un segno di vicinanza anche a coloro che stanno vivendo la loro stessa situazione detentiva, proprio a Velletri, da parte di Re Bibbia. Ed ora riprendiamo a partecipare alla Messa in Cena Domini con la preghiera dei fedeli. Uniti come gli Apostoli, attorno alla Messa della Cena del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la nostra supplica. Preghiamo insieme dicendo Per il Santo Padre Francesco, successore di Pietro, perché confermi sempre nella fede la Chiesa che Dio gli ha affidato e adempia fedelmente il suo ministero di comunione. Preghiamo Per la Santa Chiesa, sparsa su tutta la terra, perché sia ricca della misericordia del suo Signore e la effonda con abbondanza su tutti gli uomini, specialmente sui fratelli più piccoli, sui peccatori, sui poveri, sui malati, sui carcerati, sui migranti e sulle minoranze. Preghiamo Accordio, Padre, la nostra preghiera Per tutti noi, donne e uomini della Polizia Penitenziaria, per il personale civile che in questo Istituto opera nei diversi ambiti, per tutti i volontari, perché guardando sempre a colui che non è venuto per essere servito, ma per servire, troviamo in lui l'ispirazione e la grazia per un servizio sempre più generoso ed efficace. Preghiamo Accordio, Padre, la nostra preghiera Per tutti noi, qui riuniti nella scena del Signore, perché accogliamo con gioia i doni del Signore Gesù e viviamo ogni giorno della nostra vita alla luce del comandamento nuovo del suo amore, sorretti dalla grazia che ci comunica il suo santissimo corpo eucaristico. Preghiamo Accordio, Padre, la nostra preghiera Ed ora in spagnolo Accordio, Padre, la nostra preghiera Per i nostri compagni più fragili, che in carcere hanno perso la vita, perché il Signore li accolga nel suo abbraccio amoroso e faccia splendere la beatitudine dei suoi loro volti. Preghiamo Accordio, Padre, la nostra preghiera Padre, mi sei curioso che nel tuo Figlio Gesù ci hai chiamati ad amare sino alla fine. In forza del dono del tuo corpo e del tuo sangue, rendici testimoni luminosi dei doni del tuo Figlio. Egli più regna nei secoli dei secoli. Amén. Ecco la processione dei doni all'altare, inizia ora la parte della liturgia eucaristica che stiamo seguendo in diretta dal carcere di Velletri. Con Davide Dionisi volevo commentare l'ultimo passaggio di una preghiera che un ospite del carcere ha rivolto per i compagni più fragili che in carcere hanno perso la vita. Sì, sono gli agenti di polizia penitenziaria che soffrono altrettante, diciamo, patiscono quella che è la situazione delle nostre case di reclusione nazionali. Un po' perché sono sotto organico e un po' anche perché i turni massacranti ai quali sono costretti purtroppo hanno generato delle situazioni anche di instabilità perché la gestione comunque di un carcere affidata a poche unità è sempre un qualche cosa di comunque compromette, comunque prende perché comunque hai a che fare con un personale che non sempre poi risponde a quelle che sono le regole dettate dalla direzione e dall'amministrazione soprattutto quando è il momento in cui è più delicato cioè durante la notte per questo noi abbiamo particolare abbiamo avuto un passato anche attraverso le nostre testimonianze le testimonianze raccorte da Radio Vaticano Italia dato molto molto spazio ai agenti di polizia penitenziaria perché svolgono un lavoro straordinario con tanta dedizione e riescono anche a raccogliere quelle che sono le esigenze prossime dei detenuti e quando parlo di esigenze prossime parlo dello spazzolino da denti parlo della saponetta, parlo del bagnoschiuma parlo dei beni necessari proprio per la sopravvivenza quotidiana Sanità e amore dice Dio Fa che un giorno contempliamo il tuo volto Nella gloria dei verani Cristo Dio E sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. Dove è carità e l'amore, qui c'è Dio. Pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Potente. Signore, concedi a noi, i tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta è il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore nostro, sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne, a Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in Sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci si redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osana, 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 Osana nell'alto dei cieli. Osana, Osana, Osana nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osana, Osana, Osana nell'alto dei cieli. Osana, Osana, Osana nell'alto dei cieli. Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, in questa notte, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e manciatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dai peccati. Fate questo in memoria di me». Misterio della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo humilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il Suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, scappata la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e riempia a noi i nostri debiti, come voi limitate i nostri creditori, e non cinture in pezzazione, ma ne ha presso la male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. nella testa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Grazie. 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 Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, api pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, api pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati e invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non so di venire di partecipare alla tua ammenza, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. E siamo giunti nel salone teatro della casa circondariale di Velletri al momento della comunione. Ci si avvia quindi verso il termine della messa in cena domini nel carcere di Velletri. Avremo forse al termine anche il saluto della direttrice Davide Dionisi. Certamente, Loa. Durante il nostro incontro nei giorni precedenti aveva parlato di un saluto molto affettuoso anche perché lei non si attendeva a questa visita e però ha vissuto in prima persona le precedenti messe in cena domini e quindi nelle case di reclusione che abbiamo citato all'inizio della nostra direttrice. Ricordiamole. Dunque, lo ha fatto inizialmente nel 2013 nel carcere minorire di Casal del Marmo nel 2015 a Re Bibbia due anni dopo nel carcere di massima sicurezza a Paliano, in provincia di Frosinone e poi lo scorso anno a Regina Celi. Quindi questa è la sua quinta volta. Ti interrompo Davide perché il Papa sta facendo un gesto che non è frequente vedere. Sta distribuendo la comunione ai fedeli. Esattamente, diretto. Quindi in linea sostanzialmente con quello che ha pronunciato. Non lo fa in pubblico. Esattamente. Dobbiamo dirlo, però oggi forse è la prima volta che vediamo il Papa in una cerimonia ufficiale distribuire la comunione. Nelle case di reclusione in passato è avvenuto. Soprattutto ricordo a Casal del Marmo con i ragazzi aveva fatto questo gesto perché è il gesto di servizio così come lui lo ha sottolineato più volte nel corso dell'Omelia. Servizio che è fraternità e umiltà. Abbiamo visto anche in diverse occasioni soprattutto nel scambio della pace l'affetto degli ospiti della Casa Circondariale nei confronti dei volontari. Ricordiamo che è stata fatta una selezione di volontari per la partecipazione a questa liturgia in particolare i volontari di Volare che è l'associazione che ormai dal 2005 è presente costantemente nelle sezioni anche quelle un pochino più difficili. Ispiravano molto di prendere parte a questa liturgia. Ci sono riusciti, ne abbiamo individuati due e sono state tra le due più vicine a questo momento. Ricordiamo anche alcuni passaggi della Bravia Omelia che Papa Francesco ha pronunciato a braccio. Ha ricordato che il Signore fa un gesto da schiavo e invita gli apostoli, i discepoli a fare loro stessi questo gesto come fratelli nel servizio. Il Papa più volte ha sottolineato il termine servizio, fratellanza, umiltà. Sono le tre parole forse che caratterizzano la celebrazione di questa sera. Servizio, fratellanza e umiltà. Siamo al servizio e la Chiesa ha ricordato o vuole che il Vescovo almeno una volta l'anno lo possa fare per ricordare il gesto di Gesù e ha aggiunto come il Vescovo sia il più servitore di ognuno dei presenti e il compito sia proprio quello di servire gli uni gli altri e il Vescovo servire gli altri. Perché questa è la regola del Vangelo, ha sottolineato. In apertura, ricordiamolo Luca, la lettera citata arrivata, pervenuta nei giorni scorsi e inviata da un gruppo di ospiti della Casa Circondariale che non è presente oggi ma lui ha voluto salutarli proprio all'inizio dell'Omelia proprio per esprimere la sua vicinanza, la sua solidarietà e quasi a voler ampliare il gesto di lavanda dei piedi quindi il gesto di servitù, di unità, di fratellanza anche nei confronti di coloro che oggi non sono presenti. Memoria della vera Pasqua della nuova aldeassa Continua la distribuzione della comunione da parte di Papa Francesco ed è forse il momento Davide di ricordare anche un po' una giornata che si sta per concludere il Papa è arrivato al carcere di Velletri intorno alle 4 e mezzo del pomeriggio è stato accolto dalla direttrice della struttura la dottoressa Iannantuono dalla vice direttrice la dottoressa Palmeri dal comandante della polizia penitenziaria la dottoressa Bossida e dal cappellano Don Franco Diamante quindi tutto un personale femminile possiamo dire nel carcere di Velletri non solo nel carcere di Velletri abbiamo scoperto che durante i nostri tour tante donne occupano posizioni apicali proprio in queste strutture evidentemente con alcune abbiamo stretto anche un'amicizia profonda e con le quali collaboriamo come sai Luca come Radio Vaticano Italia lo vogliamo ricordare e sottolineare evidentemente la sensibilità femminile è più spiccata e hanno probabilmente la vicinanza materna come Papa Francesco ha espresso in occasione della visita nella casa di reclusione di Paliano definendo più volte la direttrice la dottoressa Nade Cersasimo una mamma oggi non è più a Paliano è direttrice del penale di Ripie il Papa ha salutato poi alcune rappresentanze del personale civile della Polizia e dei detenuti e poi è iniziata la messa che stiamo seguendo praticamente dalle 17 su Radio Vaticano Italia su Vatican News e le emittenti che sono con noi collegate il Papa lo ricordiamo ha lavato i piedi in questa messa in cena domini a 12 detenuti provenienti da 4 paesi 9 sono italiani un brasiliano un detenuto della Costa d'Avorio e uno del Marocco e come abbiamo annunciato vedremo poi se questo avverrà a termine della celebrazione dovrebbe esserci il saluto anche della direttrice del carcere di Velletri vedremo come si svolgerà il programma e poi ci sono i doni esattamente noi le avevamo chiesto proprio che cosa vi aspettate il Papa vi dica e la dottoressa proprio qualche giorno fa durante l'incontro aveva anticipato insomma quello che era il pensiero le aspettative della popolazione carceraria della casa circondariale di Velletri proprio un segnale di speranza parole di conforto di solidarietà e di speranza e di vicinanza l'abbiamo incalzata chiedendole che cosa avrebbe detto lei al Papa ci ha detto lo scoprirete in diretta perché il discorso l'ho più volte visto e rivisto perché l'emozione è forte è tale e forte che lo sto ritoccando quindi sicuramente ci sarà il discorso avevamo chiesto tu avevi chiesto anche la possibilità di leggerlo in anteprima esattamente non è stato non è stato possibile no lei tra l'altro ha parlato di di questo come straordinario evento e si aspetta anche un dopo si aspetta un dopo così come si aspettano dopo anche tutti i volontari questo per loro non è un segno di conclusione di un percorso ma è un segno di partenza da qui in poi con la visita del Papa sicuramente si avvierà un circuito virtuoso anche per costruire quello che è un ponte verso l'esterno possono godere di uno spazio molto ampio di 5 ettari di terra soltanto pochi detenuti però sono impiegati all'interno della casa di reclusione nel produrre olio e vino l'auspicio della direttrice è proprio quello di impiegare i ragazzi sempre di più perché avendo la possibilità poi di lavorare di avere una percezione anche della giornata come una giornata appunto lavorativa di produttività si preparano anche a quello che è il dopo carcere tra l'altro anche coadiuvato da un gruppo di volontari della Caritas molto molto nutrito c'è un momento di silenzio e di preghiera nell'assemblea all'interno della sala teatro del carcere di Velletri momento di riflessione che segue il gesto eucaristico e vediamo Papa Francesco assorto in preghiera proprio davanti al crocifisso sull'altare grazie a tutti preghiamo Padre Onnipotente che nella vita terrena ci hai nutriti alla cena del tuo figlio accoglieci come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo per Cristo nostro Signore Amén ed ecco che si va verso ora la durazione e la reposizione del Santissimo mi ha licenziato l'altare grazie a tutti 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 Grazie a tutti